Una piccola buca sul manto stradale all'incrocio tra via Firenze e via Giuffrida nel quartiere Sant'Ippolito a Gela, nonostante i numerevoli richieste, non è stata ancora riparata. Dalla prima istanza sono passati due mesi e nulla è accaduto. E i residenti della zona protestano perché da quella buca fuoriesce un odore nauseabondo e la stessa buca è diventata meta preferita dei ratti. L'ho vista io, l'ho vista. Una di mattina era bello grosso e di sera c'erano quelle piccoline e se ne è andato a rarretta a gioco. Il problema sono che io siamo malati, marito e mogliere. Ho letto che abbiamo gioco, ho letto che abbiamo gioco e aveva quasi due mesi che abbiamo fatto questo gioco. Si mettono da allora due, per me si può montare questo gioco e ho già visto uno del comune. Un piccolo intervento, non chiedono altro i residenti. Noi dopo che abbiamo messo a confronto Caltacqua e il comune si è venuti a conoscenza che la responsabilità è del comune. Sono venuti a un posto delle transenne però a tutt'oggi i lavori sono ancora da eseguire. Non capisco perché, perché è una piccola manutenzione, solo che la buca sembra piccola, però se noi andiamo a vedere all'interno c'è uno scopo abbastanza profondo. E la sera escono, oltre ai topi, anche degli odori nauseabondi. Tutto il quartiere purtroppo va in una situazione di disagio. Abbiamo fatto delle richieste all'URP però non vengono puntualmente, come si vuol dire, non vengono effettuati i lavori. Anzi, abbiamo fatto una richiesta nella via Lecce perché c'era un palo della luce che aveva dei problemi perché per la ruggine stava cadendo. Sono venuti, hanno tagliato il palo. Sì, è vero, hanno risolto il problema della cadenza del palo, però la signora è senza luce da circa due mesi. Chiedete un intervento al comune? Certo, non possiamo stare, stiamo fuori. Se mangiano lì, cosa fare?